Le polemiche in campagna elettorale sono quasi momenti normali che si sviluppano in particolar modo fra componenti o candidati di varie frazioni politiche. Ma adesso che si sta entrando nel vivo della campagna elettorale la lotta e il confronto diventa più aspro e non mancano, e crediamo che da qui a maggio non mancheranno, aspri confronti, battute velenose e perché no anche colpi che potranno apparire bassi e personali. A circa tre mesi dalla fatidica scadenza elettorale ecco che scoppia la polemica tra il presunto, perché non ancora è stato ufficializzato, candidato al sindaco di Forza Italia, dottore Nicola Garbitiero e il portavoce della Lega, Salvini Premier, dottor Luigi Amento. I due politici polemizzano sul loro passato politico e non mancano di beccarsi sulle scelte del presente. Ma la campagna elettorale, seppur già nel vivo, ha ancora tempo e spazio per siglare patti ed alleanze per tutti i gruppi politici e partiti che partecipano alle amministrative del maggio del 2019. Quello che sentivo in questi giorni è che il presunto candidato di un partito di centrodestra che è Forza Italia, insomma assediva delle cose sulla mia persona, riferendomi che io fossi stato un uomo del Partito Democratico. Da che io ricordi ho avuto o delle amicizie all'interno del Partito Democratico, ma mi ricordo benissimo che lui è stato un candidato al Consiglio Comunale del Partito Democratico, è stato il primo dei non eletti e molto probabilmente per non aver ricevuto quanto lui ha chiesto ha deciso di cambiare bandiera e di rivolgirsi ad un altro partito che lo potesse accontentare. Al momento 4 partiti di 5 abbiamo aderito e convenuto sul nome autorevole dell'onorevole Alberico Gambino perché abbiamo ritenuto che il nome del nostro candidato sindaco fosse il nome importante per la risoluzione dei problemi della città che in questo momento vediamo morta, anestetizzata, che non lavora, le persone abbandonano la città e noi abbiamo bisogno di un personaggio politico, ramificato, forte, sulla città che riesca a dare quella corrente continua e non quella corrente alternata che in questo momento fa male alla nostra città. E' stata fatta la presentazione del candidato, al momento nei prossimi giorni noi ultimeremo il programma che in realtà è quasi pronto, lo ultimeremo e faremo la nostra conferenza stampa con i quattro partiti insieme al candidato sindaco. Quindi al momento diciamo in via ufficiosa siamo quattro, sono convintissimo che anche gli amici di Fratelli d'Italia aderiscono al progetto anche se non l'hanno ancora ufficializzato. Quando ho sentito anche io della certezza di chi ha detto ai lavori, della presenza anche di Fratelli d'Italia, sono rimasto felicissimo perché mi ricordo che noi stiamo lavorando a questo tavolo da più di nove mesi e quindi quale miglior risultato? Cioè quello di avere quattro partiti su cinque che convergono sul nome. Quindi una cosa bellissima il ricompattamento della coalizione sta avvenendo. Chissà se alla fine anche il candidato di Forza Italia non decida di fare un passo indietro e di convenire sul nome di Alberico Gambino.